Festività natalizie compromesse nel Cilento e Vallo di Diano da due incidenti gravi. Il primo accaduto nella notte tra il 24 e il 25 dicembre all'incrocio di Spinazzo a Capaccio Pestum dove un giovane ragazzo di 26 anni è rimasto vittima lungo la statale 18 cilentana in località Fuscillo. Il giovane era alla guida di una BMW quando ha impattato contro una Jeep nera con a bordo dei ragazzi di Santa Maria di Castellabate che viaggiavano in direzione Agropoli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e per estrarre dalle lamiere dell'auto il giovane Capaccese è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il 26enne è stato poi trasferito in codice rosso presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove resta sotto stretta osservazione dei medici. Nel secondo incidente è avvenuto sulla provinciale tra Teggiano e Sassano purtroppo ha perso la vita una giovane donna. La tragedia è avvenuta tra la frazione Pantano di Teggiano e Silla di Sassano su un tratto rettilineo. La vettura della ragazza che viveva in Svizzera ed era tornata nel Vallo di Diano per le feste di Natale avrebbe perso il controllo della sua auto finendo fuoristrada. L'impatto violento non le ha lasciato scampo. Con lei in auto c'era un'altra ragazza che è stata trasferita all'ospedale di Polla sul posto il 118 ed i carabinieri si stanno facendo adesso accertamenti sulla dinamica.